Buongiorno a tutti, vi ringrazio innanzitutto e ringrazio soprattutto Alberto Brambilla che ci ha voluto a questo importante evento. Per quanto riguarda il mio intervento si focalizzerà su tre punti, innanzitutto riprendendo un po' quello che ha detto il professor Brambilla sulla vecchiaia della nostra popolazione, ovvero l'Italia si conferma il paese più anziano in Europa, lo sapete, viene detto da più parti e anche oggi non perdiamo l'occasione per ricordarlo. Se pensiamo che nel 2030, secondo le ipotesi, il 28% della popolazione avrà un'età superiore 65 anni. Se questo poi andiamo a vederlo con un rapporto fra gli over 65 e gli under 14, vediamo il cosiddetto indice di dipendenza, vediamo quindi come questo rapporto non è una cosa che si è realizzata oggi, ma è un'evoluzione demografica, ovvero la nostra vita è migliorata, il tenore della vita è migliore, i progressi scientifici della medicina ci hanno aiutato, quindi viviamo di più. Di per sé è fantastico vivere di più e meglio. Il problema è come vivremo, ovvero la capacità di essere ancora liberi di fare quello che vogliamo, di essere indipendenti. Infatti, se pensiamo alle paure delle persone anziane, la paura più grande è quella di avere una malattia invalidante, ovvero di non essere più capaci ad essere indipendenti, ad essere autosufficienti, che è il tema di oggi. Cioè la non autosufficienza che sia il Servizio Sanitario Nazionale, che le compagnie di assicurazione riconoscono come la non capacità di svolgere le cosiddette attività della vita quotidiana. Le conosciamo e intuitivamente sono alzarsi, vestirsi, camminare, fare i propri bisogni fisiologici, mangiare da soli. Questo è il tema. Se pensiamo poi a un elemento più rilevante, ovvero quali sono le cause, quali sono le malattie che determinano, che portano all'onda di invalidità, una stragrande maggioranza data dalle malattie di natura psichica. E lo vedremo più avanti. Ma quanti sono i non autosufficienti oggi in Italia? Perché se ne parla è un problema futuro, ma oggi quanti sono? Cioè più di 2,6 milioni di persone non sono capaci di svolgere in maniera autonoma almeno una delle attività che abbiamo visto precedentemente. Se poi aggiungiamo a questo elemento, a questi dati, che queste persone devono essere aiutate ad alzarsi, a vestirsi o a scendere o a lavarsi, questo numero può raggiungere anche i 7 milioni di persone, cioè il 13% della popolazione italiana. E poi entrando nel merito degli anziani, gli anziani disabili, ovvero con l'età superiore a 65 anni, rappresentano circa il 20% dell'intera popolazione anziana. Se noi contiamo gli ottantenni, diciamo che uno su due sono non autosufficienti. Questa non autosufficienza è fondamentalmente dovuta a che cosa? Se noi prendiamo una statistica, un'analisi fatta dalle persone che risiedono in strutture sanitarie, il 60% deriva da malattie di natura psichica, quindi malattie, diciamo sindrome psichiatriche o demenze. Fra cui due malattie più rilevanti, il morbo di Alzheimer e il morbo di Parkinson. Perché questi due esempi? Semplicemente perché sono malattie subtole, difficili e anche di difficile cura. E le cure per queste malattie sono estremamente costose e comportano dei costi, sia di natura economica, ma anche di natura sociale importanti. Se noi pensiamo che per esempio la cosiddetta assistenza informale, ovvero quell'assistenza che fino ad oggi o fino a ieri nelle nostre famiglie si realizzava, basta pensare a le madri, le nonne, le zie che curano o che curavano i propri cari, oggi questa assistenza informale sempre di più si riduce. Perché? Perché c'è un aumento del tasso dell'attività lavorativa femminile, per fortuna, e perché c'è anche una crescente mobilità territoriale dei giovani. Io sono un esempio, sentite dall'accento, sicuramente non lombardo, ma sono toscano e ho i genitori in Toscana, pensando al futuro e alla vecchia dei miei, diventa difficile pensare a una gestione familiare o in casa di un'eventuale malattia invalidante. E quindi penso e ho pensato a quanto mi potrebbe costare questo tipo di spesa. Signori, allora il costo mensile per una badante dai dati recuperati, costa dai 7 ai 900 euro mensili. Se poi pensiamo che di aggiungere il VIT e l'alloggio sappiamo dove andiamo a parare. Se poi addirittura possiamo avere, fra virgolette, dico io la fortuna di far ricoverare un proprio caro in un istituto di cura, questi costi aumentano, diventano fino a 2 o 3 mila euro mensili. Se poi ci aggiungiamo le spese di un'assistenza specialistica, la cifra diventa enorme. Se poi questo lo colleghiamo al reddito medio dichiarato dagli italiani, anche se qualche anno fa, ma non è che la situazione sia molto migliorata, di 2.300 euro nette mensili, è chiaro che non è possibile sostenere queste spese. È vero, la tutela pubblica c'è, pagano le pensioni invalidità, c'è l'accompagnamento, ma signori 470 euro mensili. Oppure un'assistenza domiciliare integrata, l'assessore potrà correggermi se dico qualcosa di sbagliato, ma un'assistenza domiciliare integrata che non è garantita 24 ore su 24, nemmeno 7 giorni su 7. È in funzione spesso del budget delle regioni e di conseguenza con un taglio progressivo dei soldi che le regioni hanno a disposizione, questa assistenza si riduce progressivamente. Quindi l'intervento normativo, la riforma Bindi, la riforma Sacconi e qui vado molto velocemente. Ed ecco che finalmente può nascere uno strumento fondamentale. Cioè il fondo sanitario, la cassa sanitaria, la mutua, fatela rientrare nel fondo sanitario, è come effettivo secondo pilastro d'assistenza. Come il fondo pensione, il secondo pilastro della previdenza, il fondo sanitario. Quindi fondo non soltanto come strumento di risparmio fiscale, come spesso sono state utilizzate, diciamo, le casse sanitarie aziendali. Ve lo dice chi gestisce alcune casse, insomma, in questo senso e spesso l'elemento rilevante è la riduzione fiscale e basta. E un altro, è un terzo player, ovvero le compagnie assicurative. Cioè questo deve essere il sistema, il fondo sanitario, il sistema sanitario pubblico, il fondo sanitario effettivamente integrativo di questo sistema pubblico e le compagnie assicurative. Che già oggi forniscono delle soluzioni, magari non perfette, non del tutto rispondenti al 100% a queste esigenze, ma ci sono già degli elementi. Che sono cosiddette le polizze long term care. Io ho messo alcuni elementi che già oggi sono presenti. Ovvero la compagnia fornisce la prestazione se riconosce tre o quattro delle azioni famose che abbiamo detto su sei, piuttosto che delle prestazioni in rendita o in capitale o in natura. Non è questo il tema. Il tema fondamentale è quello, e vado avanti così arrivo alle conclusioni perché mi dicono di stringere, il tema è questo. Cioè di fornire insieme e di partire insieme con delle prestazioni per scrivere un libro che è di fatto la pagina 1. Se si va in parallelo con quello che è successo negli ultimi dieci anni dei fondi pensione, e ve lo dice uno che anche se è giovane un po' ha lavorato in quel settore lì, vi dice che nel 2098-2000 quando sono partiti i grandi fondi negoziali non si parlava di gestione con garanzie, i mandati erano a tre anni, le compagnie spesso viste con un occhio strano. Oggi è cambiato tutto. Ci sono gestioni con garanzie, chiaro l'intervento normativo è stato fondamentale, i mandati sono a più lungo respiro. Ecco, io vi dico a tutti, non perdiamo altri dieci anni di tempo, partiamo insieme, scriviamo qualcosa perché soltanto con l'esperienza si riesce a trovare delle soluzioni che oggi magari non ci sembrano adeguate. Grazie.